Tu... Tu hai portato i soldati alla mia porta? Tu mi hai mentito a Tebe. Perché non provi a ragionare? Ti ho detto ciò che potevo. Se avessi tradito gli altri, ora sarei morta. La reliquia? Sapevi del suo potere? No. Non finché sei venuto da me portando sangue e un debito da ripagare. Il debito c'è ancora? Il tuo Aton. L'abbiamo cercato senza alcuna fortuna. È solo una favoletta. Di ordine, verità e giustizia. Scritta sui muri della tomba di un eretico. Dopo ciò che è successo ho smesso di cercare. Che è successo? Omicidio. Un poveretto che voleva fermare le nostre impietà. Non so chi fosse, non ho voluto saperlo. Ma quella avidità ha reso il mio cuore. Così pesante. Puoi alleggerirlo. Quando sei venuto a Tebe, ho ripreso a cercare e ho capito che qualcuno l'aveva trovato. Hai scoperto chi ha la reliquia? Questo è ancora un mistero. Ma non è fatta per gli uomini, racchiude il potere degli dèi. E non ci vorrà molto prima che qualcuno scopra come padroneggiarlo appieno. Che Amon ci aiuti allora. Il frutto della mia ricerca. L'ho comprato da un antiquario alla necropoli dei nobili. Dice che la reliquia era usata in un rituale di Maat. Un rituale ormai dimenticato. Tienilo. Io vado via da questa maledetta terra. Colui che è tesa il cuore è qui per me. Colui che è tesa il cuore è qui per me. Tutto questo è un impegno. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie!